Aveva trasformato l'abitazione estiva dei suoi genitori in contrada manfria a Gela in un vero e proprio bazar dello stupefacente. È stato un anonimo interlocutore a riferire alla polizia di sospetti movimenti in zona. La perquisizione viciliare ha dato i suoi frutti. Gli agenti della sezione investigativa del locale commissariato, diretto da Francesco Marino, e quadruvati da Massimiliano Santoro, hanno rinvenuto una coltivazione e produzione di piante di marijuana destinata allo spaccio. Arrestato, Emilio Gianrizzo, 27 anni, elettricista, con precedenti specifici. Giunti sul posto, i poliziotti hanno percepito un forte odore proveniente dall'interno, notando che l'abitazione era assicurata da chiusure ferrate che ne impedivano il facile accesso. Entrati, gli agenti hanno trovato un laboratorio dotato di tutte le attrezzature necessarie alla coltivazione e alla produzione di piante di marijuana, con la presenza sul posto di piante di canapa indiana del tipo cannabis, di stupefacente dello stesso tipo già essiccato e di tutto il materiale necessario al suo spaccio. Circa 400 grammi. Rivenuto inoltre un marchigegno elettrico alimentato anche da alternatore di corrente a batterie, nell'eventualità di un improvviso distacco di fornitura di energia da parte dell'Enel. In perfetto stato di funzionamento è composto da un elimina insetti, da una lampada a raggi, da irrigatori d'acqua. Tutto era collegato alle prese elettriche e ad appositi termostati e timer. Per mantenere costante la temperatura per la crescita dello stupefacente, c'erano anche due ventilatori ad aria calda e fredda, dotati di appositi timer per l'attivazione ad orari alternati. Emilio Gianrizzo è stato tradotto in carcere a disposizione del sostituto procuratore Antonio D'Antona.